carissimi amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi avremo modo di considerare varie notizie e ragionare anche sui numeri appena usciti che riguardano l'immigrazione poi andremo anche a dare un'occhiata ai dati economici usa che il mainstream americano tace perché scomodi seguitemi con attenzione fino alla fine perché andremo a sfatare alcuni luoghi comuni ieri sera a palazzo chigi si è svolto l'incontro tra il primo ministro italiano giuseppe conte e il presidente francese emmanuel macron il presidente del consiglio si è pronunciato molto lieto di ricevere macron e ha affermato che è essenziale per l'unione europea che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi ho avuto la piena disponibilità di macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi sulla ridistribuzione e per una gestione efficace degli impatri dobbiamo far uscire il tema da una propaganda anche anti europea l'italia non si presta ad abbassare la guardia contro il traffico di vite umane l'italia non ritiene che debba essere consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno in modo concreto pratico sulla libia abbiamo convenuto che è fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere il medesimo obiettivo coinvolgendo tutti i partner l'obiettivo e la stabilizzazione del paese queste le parole di conte due brevi note l'italia non ha abbassato la guardia dice il premier ma gli sbarchi a settembre sono notevolmente incrementati poi riguardo la libia dice che si è convenuto con macron di lavorare assieme con il medesimo obiettivo io non so se questa è ingenuità o cercare di vendere fumo è sotto gli occhi di tutti che macron ha sulla libia interessi contrapposti ai nostri altro che il medesimo obiettivo ampia disponibilità e apertura da parte del presidente macron sulla redistribuzione dei migranti così il premier giuseppe conte sintetizza l'esito dell'incontro con il presidente emmanuel macron ieri a palazzo chigi una disponibilità mai avuta prima che rappresenta una svolta nei rapporti tra italia e francia una fortissima sintonia tra conte macron a quanto si apprende da fonti di palazzo chigi da parte del presidente francese si riferisce c'è stata una reale e sostanziale disponibilità sul tema immigrazione sul quale si è soprattutto concentrato il dialogo voi cosa pensate di queste dichiarazioni sono solo parole o partoriranno qualche risultato concreto per l'italia intanto c'è da dire che macron non smentisce la sensazione che ci stia prendendo in giro dice se sono qui oggi caro giuseppe è in primis per indicare chiaramente l'intenzione di lavorare insieme per il progetto europeo lanciare un messaggio di amicizia forte e chiaro al popolo italiano dal popolo francese l'amicizia franco italiana è indistruttibile talvolta non siamo d'accordo può capitare che si litighi e non ci si capisca ma ci si ritrova insieme sempre rendo omaggio al lavoro di mario draghi alle sue ultime decisioni adottate con molto capacità di visione e molto coraggio lo dico con forza anche se qualcuno non vuole sentirlo draghi ha ragione la politica monetaria ha fatto il massimo per evitare il peggio secondo macron esiste il bisogno di un meccanismo stabile prevedibile e automatico di ripartizione delle persone salvate in mare senza rimettere in discussione il principio dell'approdo più vicino notate bene il presidente francese si è detto convinto che sia possibile un accordo sul meccanismo automatico di ripartizione sono convinto che possiamo metterci d'accordo su un meccanismo europeo di ripartizione dei migranti coordinato dalla commissione europea che consenta di garantire all'italia o a malta prima dell'arrivo dell'imbarcazione che le persone che arrivano vengano prese in carico e aggiunto i paesi che non accolgono i migranti siano penalizzati finanziariamente dobbiamo poter difendere il diritto d'asilo che fa parte spesso delle nostre costituzioni ma garantire anche che coloro che non hanno diritto all'asilo vengano rimpatriati il prima possibile nel loro paese di origine la volontà comune è di avere a livello europeo una maggiore cooperazione e una politica più efficace nelle riammissioni verso i paesi d'origine ha concluso macron in sostanza non ci sarà da parte francese nessuna svolta sull'immigrazione anzi di accollarsi i nostri clandestini non se ne parla neanche l'eliseo proprio prima dell'attesa missione ha annunciato una durissima stretta su migranti che potrebbe riguardare perfino i rifugiati minorenni macron sembra aver deciso di provare a superare la le pen a destra mentre da noi si tenta di farlo passare per un social democratico si è parlato persino di quote fisse di stranieri da assegnare a ogni paese dell'unione e di multe per i governi che non avrebbero collaborato come avete appena sentito ci hanno raccontato di trattati sulle frontiere da riscrivere in tempi record una serie di decisioni che sarebbero state ratificate dal vertice che si terrà la prossima settimana a malta ma nulla di ciò si intravede all'orizzonte macron proprio in questi giorni ha annunciato di voler riposizionare il suo partito a destra per evitare di lasciar spazio alla le pen insomma il presidente non ammorbidirà affatto la sua linea sull'immigrazione in francia che prevede di accettare dall'italia qualche sparuto profugo e nessun clandestino alcune considerazioni dall'eliseo dicono la vera sfida è garantire l'impatri rapidi il che equivale a dire che per ora tutti resteranno nel nostro paese e aggiungono e il principio della prodo nel porto più vicino non verrà messo in discussione questo è un cruciale per l'italia è assolutamente determinante che si ridiscuta il fatto che il paese di primo prodo debbano per forza essere solamente italia e malta ma non è finita qui parigi sembra aver dubbi perfino sul diritto d'asilo c'è chi manipola il nostro sistema ha detto il presidente lunedì a una riunione con 200 parlamentari come vi ho riportato nel video precedente il risultato è che rischiamo di vedere esplodere il numero di minori non accompagnati in certi quartieri se davvero l'italia intende mantenere i porti aperti ci toccherà pagare il conto sono miliardi di euro e disagi sociali sarà necessario prendersi la responsabilità del preventivabile picco di partenze dall'africa con tutte le conseguenze del caso sta tornando tutto come prima del governo giallo verde insomma voi cosa pensate davvero conte pensava che la unione europea gli avrebbe risolto il problema ed è stato raggirato o sta cercando di venderci la fontana di trevi secondo l'euro commissario sull'immigrazione uscente dimitris avramopoulos è importantissimo rimodernare il regolamento e dublino e gli sforzi in questa direzione sono considerevoli ma francamente devo ammettere di essere rimasto deluso dalla posizione di alcuni stati membri che ritengono che il problema dell'immigrazione sia un problema che riguarda solo l'europa meridionale non è così per questo bisogna adottare una strategia per l'europa tutta adesso sentite un po cosa hanno in mente cooperazioni in rete www.link2007.org a cui aderiscono 13 tra le più grandi ong italiane ebbene hanno reso pubblico un documento nel quale chiedono un cambio di passo al nuovo governo italiano tenendo ben presente che salvare vite umane è un dovere e un imperativo il documento governo dell'immigrazione non si ricominci da capo né si improvvisi innanzitutto chiede che il presidente del consiglio giuseppe conte si faccia promotore di una mozione parlamentare che modifichi il precedente impegno a non sottoscrivere il global compact secondo le ong sarebbe un considerevole segnale politico alla comunità internazionale e di serietà e credibilità dell'italia il patto globale può rappresentare il denominatore condiviso su cui poter basare le politiche dell'unione europea per il governo della realtà migratoria particolare attenzione posta alla modifica del trattato di dublino le ong spiegano che la proposta di revisione approvata dal parlamento europeo nel novembre del 2017 tende a coniugare solidarietà e fermezza e risponde assai bene alle esigenze italiane questa riforma tuttavia è bloccata dal consiglio europeo perché richiesta l'unanimità degli stati membri le ong sostengono se il trattato di dublino non può essere modificato a causa del veto nonostante l'evidente inadeguatezza alla realtà odierna servirà un atto politico di rottura si tratterebbe di uscire da tale trattato insieme alla parte riformatrice degli stati europei vanificando quindi l'efficacia del veto e contemporaneamente firmare un nuovo trattato tra i paesi che ci stanno secondo le linee proposte dal parlamento europeo se la regola dell'unanimità blocca le decisioni europee impedendo qualsiasi riforma se la piena competenza degli stati membri in materia migratoria limita le decisioni comuni è compito degli stati più illuminati trovare le modalità politiche per superare gli ostacoli concludono così le ong su trump un po come su altri leader sovranisti del calibro di orban e salvini vengono mosse delle accuse tipo che un razzista suprematista bianco che disprezza neri e ispanici un sessista omofobo che maltratta le donne un milionario insensibile che affama i poveri la classe media e chi più ne ha più ne metta lo pensano e lo dicono i democratici e la sinistra ma è realmente così vediamo razzista ebbene il censo riporta che la disoccupazione dei neri al 5,5 per cento in agosto è la più bassa da quando il governo calcola il dato cioè dal 1972 la distanza tra la disoccupazione dei bianchi e degli afroamericani non è mai stata tanto bassa pur gli ispanici e gli asiatici sono un livello di disoccupazione molto basso vicino ai record storici di qualche decennio fa oltre l'86 per cento dei posti di lavoro creati dalla fine del 2016 cioè dall'elezione di trump sono andati alle minoranze in numero assoluto pensate sono ben 4,5 milioni di posti sui 5,2 milioni creati dall'economia americana misogeno sessista tra i lavoratori a tempo pieno impiegati per l'intero anno il numero di donne è aumentato tra il 2017 e il 2018 di 1,6 milioni mentre quello degli uomini è cresciuto di solo 700 mila unità il reddito reale mediano per le donne in capofamiglia senza marito o compagno è cresciuto del 5,8 per cento tra il 2017 e il 2018 mentre per le normali coppie sposate non c'è stata alcuna variazione il tasso di povertà per i nuclei familiari guidati da donne si è ristretto dal 26,2 per cento del 2017 al 24,9 per cento del 2018 trump anti poveri e anti classe media ebbene secondo i dati del censo non è così perché quelli che vivono in povertà sono scesi di ben un milione e 400 mila persone nel solo 2018 con il tasso che è calato del dal 12,3 per cento all'11,8 per cento che è il più basso da prima della crisi finanziaria del 2007 inoltre il declino è stato opera delle famiglie guidate da donne in particolare di donne delle minoranze le più socialmente svantaggiate dal 2007 l'anno prima della crisi finanziaria dicevamo la classe media che è definita come quella che guadagna dai 35 mila dollari ai 100 mila dollari aggiustati per inflazione è scesa dal 43 per cento scusate della popolazione al 41,7 nel 2018 ma non è perché la classe media è stata spremuta anzi anche la percentuale di quelli considerati poveri è diminuita dal 29,4 per cento al 27,9 per cento della popolazione e allora dove sono finiti tutti i poveri e la classe media è al livello di reddito superiore medio e medio alto che si è gonfiato dal 27,7 per cento al 30,4 per cento insomma trump nei suoi comizi cita spesso questi trend di indubbio successo ma i media del mainstream si guardano bene dal riportarli torniamo in italia il presidente dell'istat giancarlo blangiardo in audizione alla camera davanti la commissione affari costituzionali sull'indagine conoscitiva in materie di politiche sull'immigrazione diritti d'asilo e gestione dei flussi migratori dice dal 1998 primo anno in cui il dato è disponibile e in cui risultavano poco meno di un milione di stranieri residenti al 2018 ultimo dato disponibile il numero di stranieri nel nostro paese è quadruplicato più 419 per cento crescite dello stesso ordine di grandezza si sono verificate anche in polonia 483 per cento grecia 393 per cento e irlanda 381 per cento blangiardo ha evidenziato che al 31 dicembre 2018 sono 5 milioni 255 mila e 503 i cittadini stranieri iscritti in anagrafe arrivando a costituire l'otto virgola 7 per cento del totale della popolazione residente i saldi migratori per l'estero mostrano un bilancio invece negativo per gli italiani meno 70 mila e positivo per gli stranieri più 245 mila blangiardo ha evidenziato che al primo gennaio 2018 risiedono nel nostro paese oltre un milione e 340 mila persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 56,3 per cento dei casi si tratta di donne i residenti che hanno acquisito la cittadinanza sono nel 13,7 per cento dei casi marocchini e nel 12,6 per cento albanesi sempre a fine 2018 le differenti cittadinanze presenti in italia sono 196 le cinque più numerose sono quella romena un milione 207 mila albanese 441 mila marocchina 423 mila cinese 300 mila e ucraina 239 mila che da sole rappresentano quasi il 50 per cento del totale degli stranieri residenti confermando la graduatoria del 2017 blangiardo ha anche ricordato che se le migrazioni per lavoro sono state prevalenti fino al 2010 dal 2011 il motivo d'ingresso più diffuso è divenuto invece il ricongiungimento familiare al primo gennaio 2018 hanno un regolare permesso di soggiorno in italia 3 milioni 714 mila 934 cittadini non comunitari poche centinaia in più rispetto all'anno precedente gli sbarchi nel 2015 ci sono stati 154 mila sbarchi nel 2016 sono stati 183 mila 119 mila nel 2017 23 mila nel 2018 a giugno 2019 erano 3000 a segnalare un altro problema dell'aumento dell'immigrazione di queste ultime settimane di settembre vi è stefano paoloni del sindacato generale di polizia sap queste le sue parole nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a lampedusa e il sistema di sicurezza è già in tilt il personale non è sufficiente per gestire la situazione per quanto riguarda i nostri rapporti con l'unione europea e in particolare con parigi e berlino concludiamo con un pensiero di francesco lollo brigida capogruppo di fratelli d'italia alla camera che è intervenuto su radio cusano campus e ha detto noi abbiamo avuto sempre la stella polare della coerenza ma anche della volontà di vincere e governare bene questo governo è una cozzaglia che non fa gli interessi dei cittadini in europa l'asse franco tedesco è uscito fortissimo da questa fase politica mentre l'italia è uscita debolissima l'europa non è un soggetto unico è un continente ma esistono delle nazioni che vengono rappresentate dai governi germania e francia tutelano gli interessi delle proprie nazioni in italia i governi non hanno fatto lo stesso dunque in germania e francia i popoli ribadiscono la fiducia a quelle forze politiche in italia invece dato che i governi sono stati subalterni in europa il popolo ha dato un segnale chiarissimo votando per l'area patriottica l'interesse nazionale è quello che va tutelato e protetto a noi l'asse franco tedesco ci ha fatto male all'ungheria no quindi orban nell'interesse del suo popolo vota la von der leyen per la continuazione di quel meccanismo carissimi amici iscrivetevi numerosi al canale youtube dentro la notizia condividete il più possibile i video e se apprezzate il nostro lavoro a beneficio di tutti potete sostenerci con una donazione che sarà molto gradita un abbraccio dal vostro Roby